ciao e benvenuti in questo nuovo episodio di ephemeral miniature garden oggi dobbiamo cominciare il quarto episodio con yugo e mi sa tanto che la nostra protagonista sta capendo di essere innamorata di lui quindi cominciamo subito questo nuovo episodio e vediamo un po di cosa state parlando voi due di te ovviamente e con tempismo perfetto da sotto le scale vedo sbucare la faccia di yugo all'apparire di colui di cui stavamo parlando io ed evan rimaniamo per un momento senza dire nulla che succede siete così sorpresi non è che ho sbagliato tempismo ecco bravo tu sei molto perspicace no no non è così solo per oggi la stavo visitando e sei arrivato giusto alla fine ah sì eh sebbene sia solo una visita certo che siete molto vicini eh noi scioccate non me ne ero neanche accorta ma sembra che stessimo parlando faccia a faccia molto vicini visto che la visita è ormai finita ora allontanati sebbene io abbia spinto leggermente via da me evan indietreggia con gran forza oh per bacco scusa scusa mentre l'osservavo avevo un viso così interessante e senza pensarci ecco ehi che significa ma dai siete in buoni rapporti ora eh bene bene in buoni rapporti non fraintendere è impossibile che io vada d'accordo con questo dottore subdolo eh subdolo io io che sono così intelligente e non penso altro che a lavorare ah perché tutti finiscono per vedermi come una persona sospetta eh chi lo sa evan si colpisce il petto con le mani come se fosse stato ferito profondamente questo tuo gesto è proprio d'attore di terza categoria beh e quell'espressione non mi dirai che sei esasperato da me che io sia diligente è vero in merito a quello che dicevamo prima se vuoi possiamo iniziare una visita a tutti gli effetti proprio ora il suo volto che fino a poco fa sorrideva bellamente cambia improvvisamente ma non è finita la visita sembra che la ragazza abbia qualcosa che la turba noi non parliamo il mio cuore forse si è indebolito si sta riferendo a quello che avevo borbottato prima yugo non parla yugo mi osserva come sempre rimane calmo e sorridente anche no grazie voglio pensarci un altro po per conto mio ah sì se vuoi dei consigli vieni da me ok se è per te cambio l'orario e il giorno della visita quando e come vuoi ok allora io vado alla prossima ragazzi mentre osservo evan che se ne va inizio a pensare anche io lo so benissimo che meglio se mi faccio visitare da evan anche perché lo capisco bene pure io che sto diventando strana vedi eh stai tra le nuvole sei preoccupata per qualcosa ecco ci sono varie cose diciamo la prima ah ecco ci sono varie cose ah sì tutto ok sì tutto ok solo ho dei pensieri e faccio delle azioni che non sono proprio da me sono solo un po perplessa ah ok hai iniziato una nuova vita quindi è normale che ci siano dei cambiamenti anche io sono cambiato molto da quando sono venuto qui non avevo mai fatto i lavori di casa e persino imparare a coltivare il giardino l'ho fatto solo dopo che sono giunto qui all'inizio potrei avere molta confusione ma questo significherà che sei riuscita a crescere perciò anche tu eri non serve che ci pensi così tanto no dici sì secondo me sì anche perché dici questo e quello ma alla fine stai cercando di vivere con positività no a poco a poco stai cominciando ad avere familiarità con la vita qui questa è una cosa molto buona yugo i suoi occhi mi stanno guardando con molta gentilezza al vedere quel sorriso gentile il mio cuore finisce per fluttuare e come dice yugo non devo pensare così tanto semplicemente essere così felice per un semplice fiore è solo perché yugo è stato gentile con me mentre osservo la rosa che ho in mano mi convinco da sola piuttosto sei libera ora sì a parte invasare questa rosa non ho altri impegni oh bene perché c'è un posto in cui mi sono ricordato che non ti ho ancora portata vuoi venirci con me e me lo chiedi certo che vengo un qualcosa di insolito che è nato nel mio cuore e yugo rappresenta una scorciatoia per conoscerlo meglio nel momento in cui ci penso annoisco oh sì per favore dove andiamo wow ma che bello dove siamo dopo aver invasato la rosa nella mia stanza yugo mi porta nella sala ricreativa sembra che ci siano già molti tritoni a cui piace andarci come vedi questo luogo è molto famoso all'interno dell'istituto anche perché solo poche persone vanno in biblioteca e al giardino di rose capisco in effetti quando sono andata nel giardino di rosa non c'era nessun altro oltre a noi è un peccato anche perché è un così bel posto qui puoi prendere in prestito liberamente i giochi e quando vuoi giocare sei libera di venirci troverai sempre qualcuno e non ti annoierai mai capisco però qui vedo solo un biliardo e il gioco delle freccette perché è un istituto piccolo ci hai mai giocato no mio papà odiava andare nei parchi giochi oh sì allora ti insegnerò a giocarci quale potrebbe andare ehi yugo hai portato anche lei qui ehi giusto è la prima volta che vieni qui vero rion e ashton anche voi qui per lei è la prima volta qui e sembra che non abbia mai giocato a questi giochi ho la sensazione che rion e ashton abbiano riso spavaldamenta che sia una mia impressione stavamo giusto scommettendo per chi andrà al prossimo turno in mensa ehi visto che siete qui che ne dite di partecipare anche voi grazie per l'invito ma sia io sia eri non usiamo la mensa e se scommetteste per le pulizie della stanza dai perché no ehi non voglio giocare d'azzardo io sono una principiante beh che fai scappi cos'hai appena detto vero tu sei una principiante giocare con noi è ancora troppo presto sebbene il tono di voce sia molto gentile ashton se la stava ridendo ma che diamine il sangue mi va alla testa hai appena detto che io scappo non sottovalutare le sirene prenderò parte a quella sfida brava brava oh c'è anche lui ma sono tutti qui scommettete su chi avrà il prossimo turno in mensa allora voglio giocare anche io orco all'arrivo di sui non so perché ma rione si è corrugato oh i sui anche tu ci sei è strano che tu sia qui in sala giochi ho appena finito di leggere un libro nuovo ed ora sono libero non so con che gioco volete scommettere ma posso partecipare anche io no certo rione va bene vero rione non parla non va tanto bene per lui e rione ha detto sì ma non è vero ma se non ha detto niente è appunto se rione non dice nulla allora va bene e tu yugo che fai se ripartecipa allora partecipo anche io alla risposta di yugo mi sollevo un po meno male se c'è anche yugo sono un po più tranquilla con questo numero di persone scommettiamo con il poker visto che c'è anche una principiante un gioco di carte è più semplice no eh poker in breve si tratta di un gioco in cui si cerca di combinare le carte dello stesso tipo all'inizio vengono date 5 carte ad ogni giocatore e lì butti le carte che non ti servono al posto delle carte scartate riceverai dal mazziera altrettante carte nuove per quanto riguarda le disposizioni ma vuoi spiegare così nei dettagli verrà notte in effetti abbiamo anche un buon numero per le disposizioni beh sì e scusami puoi controllare da questo manuale i poteri che attribuisce ogni disposizione potrei giocare anche mentre lo leggi ok grazie prendo il libro che c'è sul tavolo e inizio a sfogliarlo ci sono diversi ruoli sembra difficoltoso ricordarli tutti yugo mi rivolge un gentile sorriso quasi a tranquillizzarmi tranquilla non devi ricordarti tutto per il momento basta che ti ricordi di cambiare le carte e che se fai delle scale con i numeri sarai forte ok mentre scorro alla pagina successiva mi arriva all'orecchio un certo vociare ehi rion forse ci va bene sto giro siamo fortunati grazie a questo non ci toccherà fare il prossimo turno in mensa yugo è forte ma visto che c'è eri non sarà un problema dopo tutto i principianti perdono prendiamocela comoda e guarda bello mio io non ne sarei tanta convinta fossi in te ma che diamine dite oh ci hai sentiti certo ma non farci caso non ti riguarda certo che mi riguarda e come se mi riguarda pensano di vincere contro di me così facilmente che omiliazione non abbiamo ancora iniziato e già urlate yugo le carte che hai lì ragazzi alla voce di yugo tutti si rivolgono verso di lui dopo tutto posso anche non partecipare io non giochi beh io non uso la mensa e le pulizie della mia stanza voglio far male per conto mio non c'è nulla che voglio che qualcuno mi faccia quindi non ha neanche senso che partecipi provo a dire la seconda ci sarà qualcosa no non hai nulla impossibile ci sarà qualcosa no non vuoi per esempio non dover curare il giardino no quello è un mio hobby lo faccio con piacere noi non parliamo con il fatto che yugo non partecipa anche la mia motivazione sparisce ah eiri hai il diritto di goderti il gioco non esitare ad unirti a loro capisco capisco quindi yugo non giochi davvero beh per noi è un vantaggio anche perché se giochi tu finisci per vincere quindi ora siamo in quattro a giocare eh sì però io faccio il mazziere eh mentre yugo fa il suo solito sorriso inizia a tagliare il mazzo di carte con una certa familiarità e in questo stesso momento la sensazione che la faccia di tutti sia contratta per quale motivo ok mi sa che è finito così e quindi lo scopriremo nel prossimo episodio come mai sono tutti così strani all'idea al sapere che lui fare il mazziere non lo so non vedo l'ora insomma di vedere come si svolgerà il tutto come sempre aspetto di leggere i vostri commenti se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video noi ci vediamo in un prossimo gioco ciao